Sono Maria Cristina Finucci, sono un architetto e artista e sono un capo di stato. Infatti ho fondato il Garbage Patch State che è lo stato composto dalle cinque isole di plastica che occupano gli oceani. Oggi al fuorisalone ho portato HELP in collaborazione con Ariston Termo che è molto attento alle tematiche della sostenibilità. Qui nel Salone d'Onore della Statale è come una spaccatura nella terra. La terra si spacca e sanguina ma sanguina plastica e quindi è un grido di aiuto verso la nostra humanità. Ariston Termo è da sempre impegnato in prima linea a favore della sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali delle nostre attività. Proprio come Maria Cristina ha voluto dare voce a questa richiesta d'aiuto anche Ariston Termo ha voluto impegnarsi in prima persona con la Ariston Comfort Challenge. Con l'Ariston Comfort Challenge abbiamo costruito una Ariston Comfort Zone, una casetta modulare costruita vicino al circolo forale artico per permettere ai ricercatori dell'Università di Copenhagen di proseguire la loro ricerca sul cambiamento climatico anche durante i mesi più freddi quando sembra impossibile. L'Ariston Comfort Challenge è il nostro modo concreto di sottolineare l'importanza della conservazione delle risorse per il bene del nostro pianeta. Grazie a tutti!